Un minuto con Padre Pio da San Giovanni Rotondo, dal convento dei frati minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, la Portineria. Proprio perché qui c'è un luogo significativo, la Foresteria, questo luogo fra Modestino Fucci ha espletato il suo servizio di accoglienza, il servo di Dio, di accoglienza di tanti figli spirituali e di tanti pellegrini che giungevano proprio qui. Ma di quello che vogliamo parlarvi è legato all'anno 1918. L'Italia fu colpita dalla pandemia della cosiddetta influenza spagnola perché nei primi mesi di quell'anno, giungendo dall'America, giunse proprio in Spagna e dalla Spagna colpì tutta l'Europa. In una lettera del novembre del 1918, Padre Pio scrive ad Erminia Gargani, scrivo dal letto dove sono confinato a causa della mia infermità, mi trovo tutto ripieno di dolori nel fisico e tutto ripieno di amarezze nello spirito. Cosa era successo? Ci fu una ricaduta, siamo nel novembre del 1918, siamo a diverse settimane dalla stimmatizzazione di Padre Pio, Padre Pio è confinato di nuovo a letto. Di nuovo perché proprio dopo dieci giorni aver ricevuto le stimmate, Padre Pio si ammala e su consiglio del medico, il dottor Angelo Maria Merla, si decise proprio di confinarlo in questo luogo, nella foresteria del convento. Venne allestito proprio qui un lettino e su indicazione del medico doveva restare qui, proprio per evitare il contagio con gli altri confratelli. Restò in foresteria finché non fu sfebrato completamente e poi sul consiglio del medico tornò nuovamente in clausura nella cella numero 5. Un mese più tardi, quasi dalla stimmatizzazione di Padre Pio, il 17 ottobre del 1918, il giovane Cappuccino, che allora aveva 31 anni, riprende carta e penna finalmente e scrive al suo provinciale Sono a voi di ritorno dopo un lunghissimo tempo passato nel silenzio e voi me lo perdonerete di certo, sapendo che non è stato causato da negligenza e non curanza, ma da impotenza assoluta. Inoltre poi, ad Antonietta Vona, scrive il 27 ottobre del 1918, rispondo con vari giorni di ritardo alla tua, per ragioni di salute che lascia molto a desiderare. Sono uscito, è vero, finalmente fuori pericolo, ma mi sento assai debole, impotente a poter reagire. Fiat voluntas dei. Sono stato a letto, scrive Padre Pio, con le febbri spagnole. E lui dimorò proprio in questa stanza, nella foresteria del convento. Ma dopo un certo periodo riuscì a combattere questo virus, riuscì a combattere questo morbo che seminò terrore in tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.